A 40 anni dalla scomparsa di Aldomoro, anche la città di Arezzo commemora la morte del grande statista, senza tuttavia dimenticare le persone che al suo fianco si sono sacrificate per il paese. Gli eroi di Via Fani è il volume con cui Filippo Boni ha deciso di rendere omaggio ai 5 uomini della scorta uccisi dalle Brigate Rosse durante il rapimento del leader della DC il 16 marzo 1978. Il libro è stato presentato nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo in un evento promosso dalle Acli Aretini alla presenza dell'autore e di Pierluigi Castagnetti, esponente della DC e ultimo segretario del Partito Popolare Italiano. 5 uomini, gli uomini della scorta di Aldomoro, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Iozzino e Francesco Zizzi che morirono il 16 marzo del 1978 in Via Fani. Da allora cinque nomi in realtà la memoria si è cancellata. Sulle loro vite, sui loro trascorsi, sulle loro storie si è in qualche modo calato il sipario pochi giorni dopo durante i funerali del 18 marzo e nessuno più li ha ricordati. Per un espediente di carattere puramente familiare come può accadere a milioni di esseri umani mi sono rimesso sulle tracce di questi uomini e nel corso del 2016 ho ripercorso circa 5.000 chilometri alla ricerca delle loro vite, delle loro storie, della memoria perduta, di ciò che hanno lasciato le loro vite e il loro sacrificio per l'Italia, per la Costituzione italiana, per difendere la nostra Costituzione. Io credo che ci sia la curiosità di scoprire, di ritrovare pensieri solidi, pensieri forti, ideali e soprattutto verificare come la politica non sia incompatibile con la serietà dell'impegno, anzi la serietà dell'impegno, il rigore e lo spessore etico dell'impegno sono la ragione che giustifica la politica. La politica quando è seria, quando ha disegni, non allontana la gente, anzi la gente cerca proprio questo. Grazie a tutti.